Una fase di gestione di un servizio pubblico, tipo quella dell'autostrada, comprende una fase di concessione, una fase di gestione e una fase di supervisione. Queste tre fasi devono essere gestite tutte bene. Adesso si vuole giustamente costruire un ponte che duri mille anni. Insomma, non mi sembra che si possa concludere che necessariamente adesso bisogna nazionalizzare le autostrade. Io credo che sia importante però che se si segui il modello delle concessioni sia un modello fatto bene. Adeguata concorrenza quando si danno le concessioni, una gestione da parte privata e poi una serrata supervisione giusta con i metodi giusti da parte del settore pubblico. Adesso si vuole giustamente costruire un ponte che duri mille anni. Insomma, non mi sembra che si possa concludere che necessariamente adesso bisogna nazionalizzare le autostrade. Io credo che sia importante però che se si segui il modello delle concessioni sia un modello fatto bene. Adeguata concorrenza quando si danno le concessioni, una gestione da parte privata e poi una serrata supervisione giusta con i metodi giusti da parte del settore pubblico. Grazie. Velocissimo. Allora direi Fusaro e poi andiamo da Perrino. Vero è che è stato costruito il ponte Morandi quando le autostrade erano pubbliche e nazionali e altrettanto vero è che è crollato quando non erano più pubbliche e nazionali. Questo è un punto su cui bisognerebbe svolgere un'accurata riflessione. Mi limito a sostenere in maniera telegrafica le ragioni della nazionalizzazione integrale non solo delle autostrade ma di tutti gli assetti nodali del paese. La differenza tra il privato e il pubblico è, da un punto di vista filosofico, che il privato ha a che fare con merci laddove il pubblico tratta di servizi. Ora la differenza è che la merce e il privato ha a che fare con il profitto. Il pubblico invece deve offrire servizi e curarsi dell'interesse nazionale. È una differenza capitale, decisiva, perché ove prevalga la logica del profitto si verificano tragedie nell'etico che possono essere quella del crollo di un ponte o possono essere anche quelle più piccole di altri incidenti che possono avvenire ugualmente. Dove invece vi è l'interesse nazionale possono anche certamente avvenire tragedie, ma l'obiettivo resta quello della tutela dell'interesse della comunità nazionale nel suo complesso. Ed è una differenza, vorrei dire, decisiva di cui bisogna tenere conto. Allora, Perrino...